Signor Presidente della Regione Calabria, carissima Iole, porto a te e ai tuoi cari, a tutta la Calabria, il saluto commosso di tutte le regioni italiane. Siamo stati colti tutti impreparati dalla tua improvvisa e prematura scomparsa. In questi lunghi mesi di emergenza ci siamo conosciuti bene, lavorando fianco a fianco in lunghissime e quotidiane riunioni, giorno e notte, per affrontare al meglio la grande minaccia del Covid. Tu non hai mai risparmiato energie, tempo e dedizione. Sei stata sempre presente al servizio del tuo popolo e del Paese, portando alla Conferenza delle Regioni un contributo prezioso e insostituibile. Abbiamo condiviso con te, insieme a tutti i Presidenti delle Regioni, un'esperienza istituzionale e umana che ci ha unito profondamente, ci ha fatto crescere, ha creato legami di stima e di sincera amicizia. Abbiamo percorso insieme un cammino che ci ha reso un'unica grande squadra. Oggi quella squadra piange per la tua perdita, sente forte la mancanza della tua voce, delle tue idee, della tua passione civile che ci faceva sentire tutti più forti. Ti salutiamo con l'infinita gratitudine di chissà che hai messo una vita intera al servizio della Calabria e dell'Italia. grazie. 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 grazie Grazie.